E' la prima volta che vieni a Luvernata? No, 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 sono già andata agli altri anni, l'anno scorso a Borgo e sì, non è la prima volta qua. Sempre bello, tu balli? Sì, sì, ballo da quando sono nata, insomma, vengo dalle valli della Valvaraita, quindi sì, ballo da quando sono nata. Prima volta a Luvernata? No, tante Luvernate sulle spalle, mia figlia era un allieva di Sergio Berardo con la Chirona, quindi li seguiamo sempre volentieri, sempre una bella festa. Sempre bello? Sempre bello, anche con i 60 anni sulle spalle si può fare quattro salti. Una serata diversa dal solito? Ma, una serata come tante altre che noi vediamo di tutti i colori. Certo, è una gran bella serata e anche lo spettacolo è diverso dalle solite canzoni, qualcosa di più originale. Siamo contenti, la gente è venuta per divertirsi e a noi ci fa piacere. Questa festa? Sì, è la prima volta. Piaciuta? Sì, tantissimo. È un po' impossibile entrare dentro. Avete ballato? No, 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 a me piace ballare, ma non lo so ballare questo qua. Mi piace la musica tutta, quasi tutta in generale. Grazie. 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 Grazie.